Come sarà il domani? È il quesito che accompagna quest'anno la 33esima Maratona dell'Esdolomites e lo accompagna sempre con sfumature differenti. Cambiare strada o cambiare percorso, oppure semplicemente aggiungere nuove opportunità. Penso che domani, o spero che domani, mi dia ancora tanto tante soddisfazioni, intanto la mia salute e poi chiaramente la famiglia, dove per stare vicino, cose importanti per ogni persona. Sono molto contento di quello che mi è stato dato fino adesso. Trovare la serenità è una cosa importante e fondamentale per poi iniziare un domani con tanta forza. Quando per una vita hai disegnato curve, curve e ancora curve, più o meno strette, accompagnate ogni volta dal freddo, dal vento e dal ghiaccio, forse hai voglia di cambiare. Lo slalom dura 50 secondi, la bicicletta tante ore spesso e queste ore possono essere molto lunghe ancora di più. Hai tempo di pensare a tante cose, a come combattere la montagna, a divertirti e spesso quando arrivi in cima, che sai che sei arrivato a un traguardo, comunque è una nuova opportunità per iniziare. Manni forse vuole semplicemente avere l'opportunità di poter continuare a girare il mondo e scoprire ogni domani qualcosa di diverso. Oggi può farlo in bicicletta, pedalando e riflettendo, cercando di capire proprio attraverso la bicicletta, salendo e scendendo i passi dolomitici, quale potrebbe essere il suo domani, la sua nuova voglia di scoprire. C'è tanta voglia di far fatica con la bicicletta, comunque in questi anni ho fatto fatica anche negli allenamenti, da infortuni sono tornato e tutto questo fa parte di un ciclo che poi comunque continuerà un domani e penso che fare tutta questa fatica, facendo anche sulla bici, diciamo in salita, quando sei arrivi poi in cima, ti dà tanto, sei ancora più soddisfatto e contento di quello che hai dato. Manfred è una persona attenta, riflessiva, che sa valutare le cose. Queste tre componenti messe insieme rappresentano certamente una virtù che può aiutarlo nelle decisioni del domani per trovare nuovi spazi e misure in linea con le proprie aspettative. Sicuramente la mia vita è fatta di sport e sarà un progetto futuro, penso anche a tantissimo sport, a parte del solo sì, la bici, tanto allenamento, domani poi sicuramente certe cose cambieranno, adesso non lo so ancora, per fortuna non lo so, queste sono cose importanti, però sicuramente avrò tanti progetti, iniziando come detto prima, famiglia, sicuramente è un progetto importante e poi tanti altri dove troveremo anche certi accordi per fare delle belle cose, penso anche questo è il nostro territorio. La vita non è sempre una gara, ma un viaggio da assaporarsi in ogni suo passo lungo il percorso. Il nuovo tratto avrà finalmente tempi diversi. La vita non è sempre una gara, ma un viaggio da assaporarsi in ogni suo passo lungo il percorso.